Grazie anche alla vicinanza con i Lions Club che si adoperano nel sociale ma con atti e fatti concreti, non raccolte di beneficenze che quasi tutti fanno, ma realizzando opere per dare una speranza nei territori naturalmente in cui ce n'è bisogno, quindi facendo pulsi, realizzando delle sinergie per quanto riguarda le attività produttive e noi da tempo siamo legati, io poi storicamente, mio padre è stato anche governatore dei Lions negli anni 60 diciamo, così scopriamo un po' gli altri anni della nostra età. E quindi particolarmente siamo, diciamo, più che piacevolmente non solo predisposti ma fare questa sinergia con un'associazione così rappresentativa nel sociale e proiettata nel futuro a livello mondiale.